Alla morte! Ma ci fa essere un direttore? Va bene, va a sederti che è una cosa seria, ma vai! Ahem! Ma altri dovevi scorsi? Guarda! Aspetta che mi vado a sedere... Ragazzi, il momento è importante! Ah, che mi piace! Ehi, finisci! Ma che supervisore si costuma! Ahem! E basta! Ragazzi, avete capito bene che quanto bescia non parla, vuol dire che dovete stare in giro! Un attimo! Oh, ragà! Che vi faccio fare un turno di pulizia a tutti quanti, eh! Noi, che mia, Pasquale, dove è andata? Pasquale, già... C'è l'azienda che ha fatto il brindisi, giustamente, al primo anno, con l'inghia, con lo sperlì. Però, cioè, noi ne abbiamo mangiato, cosa, abbiamo bevuto, il vino novello, nessuno ha pensato di fare un bel salo, bello! E' veramente un bel salo di cuore, eh! Non so, l'hai un applauso! Non permette il responsabile! Non solo! C'è il rapporto con il reparto ospedalista! Cambia, cambia a termine! Se sei contrario! Il responsabile! Il responsabile! Il responsabile! E non solo! Allora, appunto, abbiamo... C'è stato una deriva, no? No, abbiamo cominciato prima! Iniziato! Perché i responsabili, poi, sono un dopo, da qualche mezzo, abbiamo cominciato un po' prima! E quindi, niente, abbiamo parlato, ballato... Un uomo... Un uomo...